Ti prendo il volo, ti prendo il volo, ti prendo il volo No, non ti prendo il volo Oddio! Scappa! Di fianco, ce l'avevo! C'è il pipino di fuori! C'è il pipino di fuori! AAAAAH! Oddio inconscio! Porca la miseria! Nooo You are dead! You are dead! Non ci credo! Tu salvi un coglione e ti ammazza un altro da dietro Nooo! 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 Luzo mi l'ha shottato Io sono inconscio No, you are dead! Perché mi ha piccato da dietro? Ma porca di quella troia! Ciao ragazzi Posso chiedere un'informazione? Ciao amico Bannanà Ciao Dimmi Dico Se tengo la spiaggia sulla sinistra e continuo da la Dove vado a finire? Si va in fondo c'Electro Ah di la Comunque sono Sono appena responato Sono Tipo oggi ho comprato il gioco Ma dove vuoi andare? Ehm Dove hai detto tu praticamente? Si oggi l'ho comprato Vabbè se va di la E' la città più pericolosa Amico Amico Prima accorgi del gioco dei detti Tu togli pantaloni E io faccio i niente fa male ragazzo ha mai detto furgone un amico sì di là ragazzi ascoltate nativo di là in fondo dove c'è la si chiama la canna fumare lì c'è stata un'esplosione tipo due esplosioni quindi credo c'è altra gente ma io non vorrei che fosse capito sicuramente per il momento no c'è stavo solo un po provando il gioco poi comunque mi piace se mi piace riservati dei 300 che sono al meglio va bene ok grazie mille ciao ciao no grazie no no tranquillo un qualcosina io non ti preoccupare grazie ok buona fortuna anche a voi state attenti perché c'erano delle esplosioni di là e guarda un proiettile un intero io sono su una ferrovia in coro c'è un gozzato cos'erano le pesche sciroppate ciao ragazzi ciao che botta de culo ragazzi me so beccato vi dico mi so beccato 4 5 persone 22 3 erano armate e tipo non mi hanno ucciso leggero 22 3 erano armate e tipo uno questo aspetti ha detto am sorry i don't understand can you repeat e che il cambio che mi riuscire una mappa on a kieler kieler aprile ma che è un pp che vuol dire il telescopic batto il corpo scivola ma perché il corpo scivola lol l'ho deciso io vabbè credo di averlo ammazzato una cosa presenta lo snore lasciato lì può servire no? e un tirapugna anche oh si tu che spari si si porca puttana che è successo un nero un nero un nero un nero un nero in casa no ma non erano armati tanto bene minchia c'è qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno cazzo attento attento armato sono in due sono in due ce n'è uno sulla sua destra prendiamo che faccia vuoi parlargli? o vuoi sparare? dove era quello il secondo era più avanti ah sono quelli di prima si si uno era di colore razzista alexander morto lol spara l'intesa perché sennò si rialza prendi la sua roba si si però il tizio continua a correre quello davanti eh si ma senza niente attento attento gli rompi la roba ah io ho sparato il colpo in testa dovrebbe essere morto adesso e wow aveva un fucile eh prendilo che ti può servire papà mi pianto ce l'avevo c'è il pepino di fuori c'è il pepino di fuori me lo sentiamo